Siamo riusciti a non perdere, a pareggiare una partita che ha avuto un esito importante per noi perché era importante non perdere e portare i punti a casa in vista della classifica e della prossima partita. Dovevamo essere più svegli nelle paline attive perché questo è il nostro punto debole e ci ha dato una spinta per ricominciare il suo tempo alla grande, anche dopo aver subito il secondo gollo ci ha sempre caricato. La prossima è una partita molto difficile, abbiamo dalla nostra parte che giochiamo in casa siamo molto forti lì e siamo carichi di questo pareggio molto importante all'ultimo e ce la metteremo tutta per dimostrare che noi siamo lì e se siamo lì un motivo c'è.